Il nodo è tutto nella differenza tra contaminazione e potabilità. Se il primo parametro è stato superato con il riscontro di tetracloroetileni, sostanza tossica e cancerogena, l'acqua è sempre rimasta potabile. È quanto ha accertato l'indagine della procura di Benevento, avviata due anni fa sulla presenza del pericoloso inquinante nei pozzi della Gesesa di Campomazzone e Pezzapiana, utilizzati per la fornitura di acqua potabile nei rioni Ferrovia, Libertà e Centro Storico di Benevento. Ora l'ufficio guidato dal procuratore Aldo Policastro ha reso noto che nonostante la presenza di inquinanti si è riscontrata nell'acqua una concentrazione tale da poterla considerare comunque idonea al consumo umano e che non essendo stati individuati i responsabili della contaminazione ha ritenuto di richiedere l'archiviazione al giudice delle indagini preliminari a cui spetta la decisione. Una decisione contro cui invece promette opposizione l'associazione ambientalista altra Benevento che aveva sollevato il caso. Produrremo subito opposizione spiegano in una nota con istanza finalizzata ad ulteriori indagini anche relative ai controlli del cosiddetto piano di caratterizzazione. Ancora in corso nonostante i dati continuano a segnalare costantemente da oltre due anni la presenza di tetracloroetilene nella falda della città di Benevento con valori sempre superiori alla soglia di contaminazione.